Voglio ringraziare, a cuore, anche Lucia Calvalloni, che ci accompagnano da alcune date, ha una batteria, un grandissimo musicista e è come se fosse qui con noi anche lui. Grazie, grazie a tutti. Volentoli ringraziare un po' di persone, perché è stretto a fine Dursi, iniziamo in tonda, i potenziali, Romeo Peroni, che ci accompagnano, i nostri figli, che sono fondamentali della gestione logistica, adesso dovete iniziare dalla scuola, se no ci dobbiamo la fila, ma in realtà è solo per noi, con lo spirito. Grazie a te, Paolo Peroni. 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 Perché, tutti, guardate, guardate, scrivere. Non abbiamo mai dovuto rimandare a questo senso con un certo campionza. Gliocca, in questo, a di noi, i finti primi e raggiunti i giovani di rubro. Grazie! Wow! E' un nuovo uomo che spostò la notte. Ove, la turna è giocata, papà, papà, lo santo. La chissà è, giocata, papà, e valiamo di erocchi. E poi passiamo così E poi passiamo così Il foglio di sala Il ferito della vita E poi passiamo così E poi passiamo così Se ci vediamo sempre qua Se ci vediamo sempre qua E poi passiamo così Grazie Adessandro Trapani Coletge Eccolo La staffata Grazie 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 a tutti 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 Che bello ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Sono buoni Sono buoni tutti Ma poi quando bisogna Cominciare con tutte le indicazioni che ci sono Con tutti i problemi che ci sono Noi comunque da una gente ci siamo andati Noi siamo andati città per città Grazie a loro E abbiamo portato un po' Grazie a tutti 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione!